Si è verificato un blackout tra l'esecutivo e la maggioranza consigliare. E' stata questa la premessa del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, nella conferenza stampa convocata questa mattina a Palazzo di Città, nel corso della quale ha comunicato la sua decisione di procedere all'azzeramento della Giunta. Una scelta obbligata nell'ottica del primo cittadino a seguito di quanto avvenuto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, interrotto ieri a tardanotte per mancanza del numero legale. Dopo l'ok della Giunta nei giorni scorsi ad un primo schema di bilancio, ha spiegato Bottaro, parte della maggioranza ha presentato ieri un emendamento relativo al provvedimento sull'addizionale IRPEF che di fatto stravolge la bozza approvata in precedenza con un bilancio che adesso va totalmente rivisto. Un atto di sfiducia dell'esecutivo che evidentemente non rappresenta più la maggioranza del sindaco. È evidente la mancanza di una rappresentatività politica di questa Giunta, una Giunta che adotta in Giunta uno schema di bilancio poi stravolto completamente da una parte di quella stessa maggioranza. È evidente che c'è un difetto di comunicazione, un vero e proprio blackout, ne prendo atto, a zero quindi quella Giunta e capiamo poi a questo punto che cosa succede, faremo le giuste verifiche di maggioranza per capire se possiamo ripartire e come. Ma pur scuotendo dall'interno la maggioranza e rendendo necessaria una seria riflessione sulla possibilità di proseguire l'avventura amministrativa, quanto avvenuto ieri in Consiglio Comunale non viene percepito dal sindaco come un atto di sfiducia nei suoi confronti. Non è un segnale diretto perché nasce su un provvedimento, quindi non posso pensare che chi presenta un emendamento faccia una sfiducia nei confronti del sottoscritto. La sfiducia del sottoscritto si fa in maniera diversa, si fa come un atto di sfiducia. Non è avvenuto questo, non posso assolutamente considerarlo come tale perché significerebbe anche in un certo modo mortificare il ruolo dei consiglieri comunali. Piuttosto quello che verifico è che i consiglieri comunali hanno ritenuto, della mia maggioranza, una parte di essi hanno ritenuto che quella stessa Giunta non li rappresentasse perché la Giunta fa una cosa, il consigliere di maggioranza, una parte di essi quantomeno ne fa assolutamente un'altra. Sindaco, fra meno di 24 ore si tornerà in consiglio, che cosa accadrà? Non lo so, chiaramente, quando tutto va bene, non lo so, figuriamoci in questo caso. Sapete che sono sempre molto franco e onesto. Vedremo, vedremo, certamente l'unica cosa chiara e certa in questo momento era quella che sto facendo e quindi l'azzeramento della Giunta. Vediamo in consiglio comunale che cosa accade, vediamo in consiglio comunale anche se riusciamo a trovare in un certo qual modo un accordo, tra virgolette, all'interno innanzitutto della stessa maggioranza, ma non necessariamente nella stessa maggioranza perché il consiglio comunale si vota peraltro in 33, 32 consiglieri più di sottoscritto, quindi capiremo appunto nelle prossime ore, tanto ormai credo che il consiglio comunale sia abbastanza imminente.